Ogni persona è capace di una gran copia di idee, questa forza d'ingegno unita alla forza di corpo e alle mani ha fatto sì che gli uomini divenissero signori di quanto vive in terra. Adam Smith e Antonio Genovesi, questi due signori qui erano due uomini di idee e di scienza, di quella scienza che oggi domina il nostro pianeta e cioè l'economia naturalmente. PAM! Lo vedi? Sexy! È lì che ti guarda da dentro la vetrina, tu lo guardi, sei ipnotizzato, è bellissimo! Finché un giorno un marinaio di nome Charles J. Moore, disperso in mezzo all'oceano pacifico, trova qualcosa che lì davvero non dovrebbe esserci. Con la mia piccola barca disperso in mezzo all'oceano pacifico scopro l'ottavo continente terrestre. E Cycles ha detto la gente, cosa ha fatto? Niente. Della plastica nell'oceano non interessa niente a nessuno Charles. Siamo Tom e John di TerraCycle, una start-up innovativa. Ci regaleresti le tue bottiglie di plastica invece di buttarle nella spazzatura? TerraCycle, così si deve chiamare la nostra impresa. John, senti come suona bene. TerraCycle, riciclo, ecologia e impresa. Un'idea bella, potente. Io lo so che ogni essere umano è spontaneamente egoista. Ma sono anche convinto che ogni donna e ogni uomo su questa terra è capace anche di un altro grande slancio che chiamiamo umanità. Stay human. Siamo umani. Siamo umani. Siamo umani. Siamo umani. Siamo umani. Siamo umani.